ciao ragazzi non occorre essere supereroi per avere un fantastico fisico perché tutti voi con umiltà e costanza potete ottenere ottimi risultati ascoltatemi nei prossimi video in questi video dove vi spiegherò come allenarvi e la cosa più importante è che siete umili e che crediate in voi stessi quindi anche tu puoi farcela e adesso proseguiamo per il nostro con il nostro percorso di fitness anche oggi e faremo vedremo altri esercizi